Domenica 12 dicembre, una giornata molto speciale al centro polisportivo di Rivarolo Canavese con Tommaso Zello, responsabile dell'area nuoto, area piscina della struttura di Via Trieste chiediamo cosa c'è in programma Dunque, domenica 12 dicembre la piscina avrà un'apertura straordinaria perché ci sarà un evento di fitness e un'apertura a punto nuoto libero a fondo benefico ovvero tutto l'incasso della giornata di domenica 12 verrà devoluto all'associazione Dynamo Camp Ci puoi parlare dell'associazione Dynamo Camp e quali sono le prerogative di questo gruppo che si muove ormai da tempo sul territorio? Certo, allora, Dynamo Camp è un centro importante con sede a San Marcello Pistoiese in Toscana specializzato nella terapia ricreativa per bambini e adolescenti affetti da malattie croniche in terapia oppure nel periodo di post ospedalizzazione Qual è il programma della giornata del 12 dicembre? Dunque, la mattinata inizierà alle 8.30 con l'apertura al nuoto libero dalle 8.30 alle 10.30 dalle 10.30 alle 11.30 invece ci sarà un evento di fitness con il nostro staff di istruttori dove appunto dedicheremo un'ora esclusiva all'attività di fitness in acqua Purtroppo, a causa Covid, avremo l'impossibilità di aprire gli spalti al pubblico però chiunque può recarsi presso la segreteria anche semplicemente per una donazione oppure prenotarsi per appunto accedere alla vasca e fare un po' di attività sportiva a fondo benefico Non solo agonismo, non solo preparazione alle gare degli atleti ma anche attenzione al sociale il centro polisportivo di Rivarolo è sempre sul pezzo ce ne vuoi raccontare quali sono appunto le attenzioni che ha? Sì, noi siamo molto attenti a questo aspetto perché appunto lo sport deve essere inclusione e inclusione significa appunto essere un appoggio anche e soprattutto per chi ha più bisogno di un aiuto